salve mettetevi pure comodi adesso che il museo è chiuso posso finalmente prendere la parola voglio raccontarvi la mia storia io sono l'alca in penne sono un anzi ero un uccello nello specifico pinguinus in pennis da non confondere con il pinguino chiamato così dai suoi scopritori perché ci somigliava ma torniamo a noi io e i miei simili nidificavamo su isole rocciose e remote vicino le coste dell'atlantico del nord la nostra principale attività era il nuoto passavamo molto tempo in mare era lì che si trovava il nostro cibo ovvero pesci e crostacei il resto del tempo lo trascorrevamo sugli scogli non c'erano pericoli a parte uno l'uomo iniziò a cacciarci fin da la preistoria all'inizio lo faceva raramente ma dall'ottavo secolo la caccia divenne più intensiva non servivamo più solo come cibo usavano il nostro grasso per fare olio per lampade e le nostre piume diventavano cuscini la cosa andò avanti per secoli non potevamo fuggire perché le nostre ali erano troppo piccole per il volo e le zampe palmate poco adatte alla terraferma a tutto questo si aggiunse un periodo di lungo freddo la piccola glaciazione che durò circa 500 anni dal 14esimo al 19esimo secolo lentamente la nostra popolazione è stata decimata gli ultimi di noi erano diventati merce rara eravamo talmente in pochi che da tutto il mondo i collezionisti pagavano per farci cacciare famosa è la storia dell'ultima alca britannica alcuni uomini che l'avevano catturata la accusarono di essere una strega e di aver causato una tempesta così ad un certo punto rimase solo un'ultima colonia di alche in islanda vivevano riparate in cima a una scogliera un giorno però una forte mareggiata le costrinse a fuggire verso un punto più esposto gli ultimi esemplari di quella colonia una coppia e il loro uovo vennero presi nel 1844 per conto di un mercante fine qui si chiude la storia dell'alca in penne non è esattamente un lieto fine io sono l'unico animale estinto in questa collezione ma altre specie rischiano di incontrare il mio stesso destino a causa dell'uomo per questo motivo vi racconterò le loro storie perché siete ancora in tempo per cambiarne il finale no no Grazie a tutti.